Emo ti passa! Cosa? Capito la pesina! Che bello! È una stasera, che ci sono tutte le mestiere da fare. Si caldo, che lo vede! Guarda, qualcuno ha detto... ...che la forma... Come vai, come va? È arrivato il proprio caso! C'è la fuori! Catti, dopo, dopo, l'hai asciutto! Catti, dov'è la bundola? Stiamo verso il ristorante, ci ne portiamo un po' di là. Allora andiamo a piedi facili? Sì, sì, noi andiamo a ristorante. Adesso... Vediamo il ristorante! Vediamo il ristorante! Vediamo! Vediamo! Sì, c'è un canale! Sì, c'è un canale! Sì!